ciao a tutti è la terza volta che registro questo video quindi da ora in poi scusatemi non abbiate né male ma vi terrete anche gli errori perché non posso più di registrare la stessa cosa 20 volte per chi mi conosce ho semplicemente cambiato nick per gli altri e ciao a tutti e benvenuti nel canale di iris soul questo canale tratterà non più di cover ed è qui l'altra novità perché registrare delle cover è diventato veramente troppo troppo gravoso però non avevo voglia di abbandonare il canale ecco per cui il canale si si comporrà sempre semplicemente di una cosa in meno resteranno i doppiaggi resteranno i video tag resteranno le video richieste e resterà qualche piccola sorpresa quella che non vi anticipo unica altra novità poi concludo veramente se non va più bene come video presentazione sarà il fatto che per quanto riguarda le video sponsorizzazioni girerò un video a parte con delle regole quindi chi vuole essere sponsorizzato sarà invitato a guardare un video di regole il che scusatemi sono dislessico di cui inserirò il link qui sotto bene vi auguro buona permanenza nel mio canale iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e per tutti gli altri stay tuned